Da oggi chi deturpa o imbratta un monumento paga di tasca propria. Questo principio è diventato legge dello Stato italiano. Ringrazio il Parlamento e ringrazio soprattutto i tanti cittadini che mi hanno sostenuto in questa battaglia di civiltà. I monumenti sono parte integrante della nostra identità e della nostra storia e per questo vanno assolutamente rispettati. La tutela dell'ambiente, i cambiamenti climatici sono questioni essenziali del nostro tempo, sono questioni fondamentali e complesse sulle quali dobbiamo assolutamente impegnarci tutti quanti. Ma non è con la ricerca di un inutile clamore mediatico che si risolvono questi problemi. Siamo ad un punto di svolta, il governo e la maggioranza parlamentare hanno dato una risposta concreta, chi danneggia paga.